Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato dopo aver rattroffato un'anziana di 80 rubandole 13 mila euro e dei gioielli in oro. La truffatrice infatti aveva convinto telefonicamente la vittima che suo figlio aveva investito qualcuno e aveva bisogno di denaro per risolvere la situazione. Poi a casa dell'anziana si è presentato una giovane che si è finto carabiniere e ha preso il denaro e i preziosi. Tuttavia i due sono stati catturati dopo l'allarme, la donna è stata arrestata mentre il complice ancora minorenne è stato denunciato. E adesso torniamo a parlare della strada regionale 71 e infatti è arrivato in la via libera della prefettura l'installazione di un autovelox proprio dove perse la vita in un tragico incidente Federica Canneti. Un autovelox nel punto della strada regionale 71 dove un anno fa ha perso la vita Federica Canneti a soli 22 anni. Federica viaggiava in auto con altri quattro amici in direzione Arezzo all'altezza di Vitiano, il fuoristrada. L'auto su cui si trovava Federica alla cui guida c'era un 23enne viaggiava alla velocità di oltre 130 km orari. È stata la polizia municipale per voce del proprio comandante Aldo Poponcini a presentare richiesta alla prefettura per l'installazione dell'autovelox. Il prefetto di Arezzo nelle scorse ore ha firmato la delibera che individua la postazione e dà il nulla osta alle procedure di carattere pratico. Al di là di tutti quelli che sono i presupposti per poter installare un autovelox che quindi sono stati valutati da un'apposita commissione ha anche un forte significato simbolico perché purtroppo c'è stato un gravissimo incidente proprio nel punto in cui sarà installato l'autovelox. Quello è un tratto di centro abitato 50 km orari? Sì 50 km orari. È un tratto nell'abitato però su una strada che conosciamo la 71 dove la maggior parte degli incidenti che si sono verificati sono stati causa ovviamente dell'eccesso di velocità e della distrazione. L'autovelox deve essere visto in questo senso come un ricordo del fatto che non bisogna superare i limiti di velocità e avere sempre comportamenti prudenti alla guida perché purtroppo non ci sono strade pericolose, lo dico sempre, ma comportamenti imprudenti. Parliamo adesso di un altro incidente drammatico lungo le strade dell'Aretino, quello nel quale perse la vita lo scorso aprile Vanessa Bonatti a Vaggio nella comune di Castelfranco, Pian di Scò. È stato anticipato al 24 ottobre il processo nei confronti della 55enne che ubriaco alla guida travolse ed uccise la donna. L'uomo ha optato per il rito abbreviato che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. E ancora cronaca giudiziaria, questa mattina si è tornati in aula per il processo per la tragedia dell'archivio di Stato. In programma l'esame dei due degli undici imputati, tra cui anche la vigile del fuoco Antonio Zumbo. A prendere la parola poi un tecnico dell'Igeama, la società che si è occupata dei corsi di formazione, che ha specificato di aver fatto ispezioni e sopralluoghi parlando anche della pericolosità dell'impiego del gas Argon. Circostanza smettita invece con una dichiarazione spontanea dall'ex direttrice Antonella D'Agostino. Il procedimento andrà avanti con i legali difensori il prossimo 26 ottobre. La procura di Arezzo invece ha chiesto l'archiviazione per il fascicolo aperto dopo la morte di Marco Mazzeschi. L'imprenditore aretino è deceduto a Dubai. Un anno dopo il drammatico episodio, dunque l'epilogo. La morte sopraggiunse per cause naturali. Sulla vicenda era stata abbiata un'inchiesta che vedeva la compagna dell'uomo indagata per omicidio preterintenzionale. E adesso voltiamo pagina per parlare del conflitto tra Israele e Palestina ad intervenire il presidente di Rondine, Cittadella della Pace, Vaccari. In questi giorni tragici, Cittadella della Pace si interroga come tanti sulla sua missione. Mentre diventa ancora più fermo il rifiuto della guerra e della violenza come strumento per la risoluzione di controversie, ha scritto, si rinnova anche la responsabilità e la volontà di difendere un patrimonio unico come quello delle amicizie impossibili, quelle dei giovani della Warhouse. Il lavoro di Rondine oggi più che mai torna alle radici dell'umano per difendere la possibilità di trasformare il dolore in un percorso di riconciliazione e di costruzione di un futuro di pace. Sono giorni drammatici senza dubbio questi. Il conflitto si fa sentire però anche sul piano economico. Ne abbiamo parlato con la presidente di Feder Consumatori. Presidente, siamo in un momento storico ancora forse più delicato di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. La guerra sicuramente, insomma, Israele-Palestina che si è riaccesa in maniera molto prepotente, quindi il prezzo delle materie energetiche che va da sé salirà. In tutto questo scenario voi che cosa chiedete? Noi chiediamo assolutamente la proroga del mercato tutelato, sia per il settore gas che per il settore elettrico, perché è notizia di ieri, una nuova impennata causata della guerra scoppiata nuovamente tra Israele e Palestina, a seguito degli eventi drammatici e terribili che si sono verificati, che il gas ha avuto nuovamente un'impennata. E questo ovviamente determinerà un aumento dei prezzi esponenziali, non si fermerà assolutamente qui, temiamo. Quindi la tutela nei confronti dei cittadini italiani quale dovrebbe o potrebbe essere, secondo voi? Assolutamente la proroga del mercato di maggior tutela. Teniamo presente che questo cambio obbligatorio dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe coinvolgere qualcosa come 15 milioni di utenze, la maggior parte di queste, tra l'altro persone più deboli dal punto di vista sia economico che sociale, e quindi si potrebbe creare un evento a catena, francamente con risvolti molto pesanti. Ecco, tra l'altro voi avete assistito in questi mesi, in cui appunto ci avviciniamo, se questa proroga non venisse concessa alla fine del mercato tutelato, di pratiche non troppo, insomma, corrette. Stiamo assistendo, e tanto che assistiamo a pratiche scorrette, possiamo dirlo tranquillamente, cattiva informazione, telemarketing selvaggio, di tutto, stiamo vedendo di tutto, passaggi non richiesti, vediamo che tutti i sistemi di tutela e di salvaguardia che l'autorità dovrebbe porre in campo presentano spesso delle falle. E in una situazione di questo tipo non è possibile, non è pensabile assolutamente liberalizzare completamente il mercato. Noi abbiamo notizie, ad esempio, di gestori che stanno inviando lettere con cui si preannuncia la fine del mercato tutelato, che però riportano dati non corretti. Io vorrei ricordare che l'obbligo ad oggi, se non ci sarà una proroga che noi chiediamo fortemente, l'obbligo è semplicemente per le persone, non scatta, perdonatemi, non scatta per le persone che hanno compiuto 75 anni e un minuto. È obbligatorio per le persone che hanno un'età inferiore, ma per le persone che hanno quasi 75 anni e un secondo e non scatta più questo obbligo. Questa informativa non viene data, viene data in maniera nebulosa, viene data in maniera non corretta. Tra l'altro poi intervenire in maniera successiva, ci sono storie che avete seguito anche voi, poi magari vanno anche a buon fine, ma è molto complicato. Una volta poi che si è acquisito un contratto non voluto, una fornitura non voluta, però poi tornare indietro è complicato. Allora, si può tornare indietro, però assolutamente abbiamo seguito, si sono determinate delle situazioni assolutamente incresciose che sono andate a colpire quello che sono ovviamente le classi più deboli, persone di età elevata, con difficoltà economica o persone in difficoltà economica, con bambini piccoli ad esempio. Tutti quei soggetti più deboli che invece devono assolutamente essere tutelati. Parliamo adesso di scuola. La Regione Toscana prosegue la battaglia contro gli accorpamenti degli istituti scolastici. Ne abbiamo parlato con il Presidente dei Presidi Toscani, Alessandro Artini. Il servizio di Greta Settimelli. La Regione Toscana ha deciso di impugnare di fronte al TAR il decreto del Governo sugli accorpamenti scolastici. Noi abbiamo chiesto un'opinione di questo al Presidente Toscano, che è anche un aretino dell'Associazione Nazionale Presidi, Alessandro Artini. Intanto noi siamo abituati a rispettare come è doveroso il parere dei giudici, quindi aspettiamo il giudizio del Tribunale amministrativo. Ciò posto, come dire, noi non pensiamo che vi possa essere una riduzione significativa di personale. Il decreto prevede per la Toscana una diminuzione dalle attuali 470 autonomie scolastiche a 455 entro il 2025. Ma secondo Artini, al momento il pericolo di chiusura dei plessi non c'è. In Toscana, se ben ricordo, ci sono 25, forse anche più, istituzioni scolastiche in regenza, la maggior parte delle quali sono sottodimensionate, sono sotto i 600 alunni. Quindi, diciamo così, l'eventuale accorpamento riguarderebbe anzitutto queste istituzioni. Gli accorpamenti che nasceranno dal dimensionamento non comporteranno la scomparsa degli istituti. Ora, il fatto che le nuove istituzioni prevedano 900 alunni, questo numero di per sé non è ostativo ad una gestione efficace della scuola, anche perché molti miei colleghi sanno, io stesso ho avuto scuole che superavano i 1800 alunni, a Firenze ce ne sono alcune che superano i 2000. Si tratta di vedere come vengono fatti e poi si tratterà anche in futuro di modificare la governance delle scuole in maniera tale da renderla sempre più efficace. Il progetto Caregiver, voluto e curato dalla Fondazione Arezzo Comunità, si arricchisce di un nuovo importante step. In collaborazione con Opi, da oggi chi si prende cura di persone familiari non autosufficienti fisicamente o mentalmente, ha a disposizione un nuovo strumento. Grazie alla disponibilità di alcuni dei professionisti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, sono stati infatti realizzati sei video-lezioni immaginate come veri e propri mini-tutorial. E adesso invece l'educazione alla salute anche in ambito scolastico, siamo andati a vedere l'impegno dell'ASL Toscana Sud-Est. L'educazione alla salute in ambiente scolastico, ne abbiamo parlato con il dottor Renzo Paradisi per capire come l'ASL Toscana Sud-Est adotta queste buone pratiche. Che cosa si intende per buone pratiche di educazione alla salute nella scuola? E in questo la Regione Toscana, lei ci spiegava, è stata, ha avuto un'idea addirittura dieci anni fa con una delibera che magari non molti conoscono. La ringrazio di questa domanda perché effettivamente quello che la Regione allora nel 2013 stabilì come buona pratica per le attività di educazione alla salute, di promozione alla salute nel setting scolastico fu una novità assoluta, probabilmente ancora rimasta unica in Italia, ma di fatto ha portato ad evitare quello che purtroppo per decenni abbiamo tutti verificato come alunni o come studenti, che il personale sanitario venisse nelle scuole a parlarci di cosa non dovevamo fare e di altri magari stili di vita per quanto corretti da seguire ma era difficile in quei casi poter applicare. Viceversa la Regione Toscana ha stabilito che la scuola insieme al sistema sanitario progettasse gli interventi e le azioni che potessero essere applicate nella scuola dagli studenti e per questo si è preferito da allora lavorare con gli insegnanti, collaborare con loro e quindi portare le nostre conoscenze a disposizione degli insegnanti che sono i veri professionisti dell'insegnamento e loro lavorando su qualunque tipo di materia hanno potuto veramente portare i ragazzi a delle consapevolezze che prima non c'erano sui corretti stili di vita e non solo sulla consapevolezza proprio del loro comportamento di quanto possa incidere come determinante di salute. Quali sono i bisogni di oggi maggiormente da intercettare che poi potrebbero anche diventare patologie come la dipendenza da gioco, come la dipendenza anche da sostanze diciamocelo insomma per i nostri giovani, per i nostri ragazzi da intercettare proprio nell'età ancora scolastica? Le dipendenze sia da sostanze che non rimangono sempre molto importanti perché purtroppo non avendo quello che dicevamo prima a disposizione tra i loro desideri questa ricerca del silenzio e dello spazio per dare alle emozioni del tempo corretto tutto ciò che può portare ad uno stress oltre quello della normale crescita anche questo con i messaggi che arrivano dall'esterno se i ragazzi non riescono a trovare le risorse nel loro interno è chiaro che vanno a cercare sostegno verso qualcosa che apparentemente gli dà una mano soprattutto per l'età adolescenziale per problematiche legate all'affettività, alla sessualità ma anche ai problemi che possono derivare da un utilizzo esagerato delle tecnologie beh allora noi incontriamo anche gli studenti soprattutto negli ultimi anni cercando di trasmettere attraverso questa collaborazione con gli insegnanti con i professori tutti la fiducia di portare i ragazzi a credere in loro avendo consapevolezza di questo sarà senza dubbio meno ricercato ecco un appoggio verso sostanze che chiaramente sono molto negative non solo per la loro età ma poi creano dei problemi che possono trascinarsi anche per tutta la loro vita in occasione della giornata mondiale del cuore arriva l'iniziativa della costura di Arezzo con l'obiettivo di diffondere nella popolazione a partire proprio dagli appartenenti l'importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari sono stati così eseguiti in collaborazione con il centro sanitario SAPRA che ha messo a disposizione l'unità mobile attrezzata e il personale sanitario esami strumentali e visite di screening a 200 dipendenti dei 260 totali e oggi invece è la giornata mondiale della vista tra le iniziative aretine alla Casa della Salute è arrivata per la prima volta in Toscana TD Box è una biblioteca inclusiva di letture tattili e digitali per questo si chiama TD Box c'è una scatola viaggiante una scatola su ruote che contiene all'interno non solo delle letture tattili e digitali quindi per bambini, disabili e visivi libri tattili da toccare, manipolare, sentire e ascoltare oltre che guardare anche ad Arezzo per la prima volta in Toscana è arrivata la TD Box una vera e propria biblioteca viaggiante inclusiva ospitata alla Casa dell'Energia noi le apriamo e le portiamo in giro sono come due grandi cassapanche piene di tutto l'obiettivo è quello di far capire che le diverse abilità possono incuriosire e essere utili a tutti l'evento Leggimi con le dita vuol promuovere l'inclusione attraverso la fruizione dell'arte e della lettura l'unica modalità per realizzare dei libri tattili illustrati è quello di farli a mano quindi i tempi di realizzazione, di produzione di ogni libro sono molto lunghi e quindi i costi e la possibilità di distribuire questo tipo di editoria è molto limitato è per questo che noi realizziamo questa serie di piccole manifestazioni le portiamo in giro proprio per far conoscere la lettura inclusiva un libro per bambini innanzitutto è un libro per bambini quindi deve piacere a una fascia di età però nascendo all'interno della didattica speciale quindi all'interno della didattica inclusiva per disabili visivi deve avere anche determinate caratteristiche ha il doppio testo e l'altra caratteristica è che le illustrazioni sono appunto tattili quindi si possono apprezzare con gli occhi ma si possono apprezzare anche con le mani proposti anche laboratori e workshop rivolti non solo ai bambini e ai ragazzi ma anche alle famiglie e agli insegnanti qui abbiamo l'occasione di avere tanti oggetti tanti strumenti che facilitano l'inclusione di persone e studenti povedenti o non vedenti ma abbinato a questo c'è un percorso di formazione workshop molto importante che permetterà ai docenti di relazionarsi meglio con gli strumenti e applicarli nella didattica quotidiana a breve infine anche la realizzazione di una riproduzione tattile dell'affresco la maddalena di Piero della Francesca dopo la chimera faremo anche la maddalena tattile perché la maddalena tattile rappresenta il passo successivo sull'arte per la fruizione in maniera autonoma anche da parte dei soggetti minorati della vista di un'opera d'arte particolarmente importante e qualificante per la nostra realtà cittadina sarà ovviamente coadiuvata anche da dei QR code che faranno quello che devono fare ma sicuramente l'aspetto tattile rappresenta un'innovazione sicuramente importantissima l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare dal 9 al 15 ottobre torna invece a rivolgere il suo appello sostieni ci basta un battito d'ali i volontari della sezione aretina scenderanno in piazza per promuovere il caffè dell'Unione il gadget della giornata nazionale e per raccontare il loro impegno per le persone con distrofia muscolare sabato 14 in piazza Saiacopo domenica invece sul sagrato della parrocchia di San Marco ed infine sabato 21 e domenica 22 saranno presenti al mercatino delle Pulci dalle farmacie comunali invece torna il progetto Neonati Amaranto un kit da baby tifoso il regalo per i bambini e le bambine nati nella 2023 coinvolte tutte le 8 farmacie nel territorio dove i genitori potranno ritirare gratuitamente entro il 1 dicembre un sacchetto con una maglietta dei prodotti per la prima infanzia favorendo così l'imprinting alla passione e al tifo sin dai primi giorni di vita e adesso parliamo di donazioni di sangue un tema molto attuale in questi giorni anche a seguito dell'appello lanciato da Fedez un'iniziativa in programma anche ad Arezzo a Villa Severi sono molto felice di essere tornato a casa volevo ribadire ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebene Fratelli volevo ringraziare anche l'Avis che mi ha lanciato un bellissimo appello in questi giorni a cui rispondo in maniera assolutamente positiva dopo questo appello di Fedez sull'importanza delle donazioni di sangue in tantissimi hanno alzato il telefono e chiesto informazioni alle associazioni specializzate un appello che aveva acceso così un riflettore sul tema e anche ad Arezzo si mobilita per la sensibilizzazione con una serata a Villa Severi Venerdì a Villa Severi sarà una serata dedicata alla promozione della donazione di sangue una cosa estremamente importante un sistema per fare volontariato ed è un bel volontariato e quindi abbiamo pensato di organizzare questa serata di musica e anche una serata in cui sarà possibile consumare nei vari stand i panini con la salsiccia, con la porchetta e per realizzare questo progetto ci sono coagulate una serie di forze che ovviamente la Marusca di Villa Severi del Cral di Villa Severi e poi abbiamo Luciano Caporali del Cral aziendale di Arezzo dell'ospedale Luigi Scatizzi dell'Acli l'associazione italiana Sommelier e poi Enzo Scorteggi che ci allieterà per la prima parte della serata con il suo karaoke quindi abbiamo pensato a una serata in cui ci sia possibile consumare e quindi avere la possibilità di stare seduti fare una prima parte dalle 7 all'8 e mezzo con il karaoke e dall'8 e mezzo in poi con gli M&M ad ascoltare musica live Passiamo alla pagina dello sport due titoli europei un titolo intercontinentale e uno italiano di kickboxing verranno assegnati in terra retina la data è quella del 26 novembre quando alla Pala Sport Estra ci sarà la 26esima edizione delle stelle del ring che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci